benedetto oggi faccio un video per ragazzi da 15 20 anni so che ci trova anche tanta gente giovane che mi segue mi rivolgo a voi come se fosse un padre io vi dico solo questo ragazzi non perdete tempo con studi e scuole che non servono a un cazzo allora lo avevo già fatto questo video se dovete diventare vostra aspirazione diventare un chirurgo è chiaro che dovete studiare ma oggi la scuola italiana che cosa vi dà che cosa vi insegna che cosa vi insegna per il mondo del lavoro reale io io se fossi oggi un ragazzo e non avessi soldi se fossi povero se fossi povero non avrei dubbi non avrei dubbi andrei via dall'italia non starei un minuto in italia appena la possibilità scappo perché io posso capire uno di 18 20 anni 15 anni 16 anni sei figlio di papà statene in italia cazzo te ne frega intanto non hai problemi ma se non hai non hai delle possibilità qui in italia tu un futuro non te lo farai mai a me dispiace fare un video così mi dispiacerebbe anche mi dispiace fare un video però l'italia un paese che non ha futuro voi non avete futuro qua non avete nessuna speranza perché perché la classe politica è quella che è che poi è l'espressione del popolo vivete in un paese dove vanno avanti solo ladri puttane e raccomandati vanno avanti raccomandati nella politica nel mondo del lavoro qui non vai avanti in italia se hai capacità se capacità non vai avanti vai avanti solo se sei raccomandato perché in italia funziona così l'italia è una palude dove questa gente va avanti quindi se siete gente che avete voglia di fare non è il paese in cui potete emergere se siete gente onesta non è questo il paese non è questo il paese se volete farvi un futuro ve lo dovete fare da un'altra parte ve lo dovete fare da un'altra parte se oggi avete 15 16 17 18 20 22 23 cosa fate in italia che cosa state a fare io conosco un mare di ragazze che mi seguono che hanno dai 20 ai 26 27 anni sono tutta gente che non fa un cazzo non fanno niente e sono lì perché perché hanno un tetto una casa dove mangiare hanno il paparino che magari ma non sto parlando di gente ricca sto parlando di gente che magari il padre fa l'operaio lavora i genitori lo mantengono ma un domani che cosa fate ma che cosa aspettate andare fuori dal cazzo una volta telefonai a un noto politico una trasmissione questo noto politico che non ha mai fatto un giorno di lavoro in vita sua disse ma bisogna stare qui bisogna crederci bisogna lottare sì ma non hanno tutti la tua fortuna di prendere 12 13 mila euro al mese 12 13 15 mila euro al mese avere i biglietti gratis per lo stadio non pagare mai un cazzo cioè non hanno tutti la tua fortuna di non aver mai fatto un cazzo nella vita e di poter raccontare quattro minchiate agli italiani credeci la gente c'è se non magna e quindi io dico un ragazzo giovane è un crimine che un ragazzo oggi di 18 20 anni non cerchi un futuro all'estero e non vengano i politici a dirmi no ma la o qualche d'uno no ma l'ambrenedetto tu inviti la gente andare via e voi che cosa avete fatto voi bastardi che cosa avete fatto perché la gente i giovani rimangano qua che cosa state facendo voi bastardi maledetti che cosa avete fatto niente vi siete fottuti il paese vi siete mangiati tutto non lasciate manco una briciola vi rubate milionate di euro e voi adesso venite magari a dirmi a me no ma l'ambrenedetto che cosa avete fatto voi per i giovani io io sono costretto ad andare avanti chissà fino a quanto cazzo per cercare di prendere tutti i soldi che vi ho dato una pensione roba ma brutte teste di cazzo che non siete altro se continuate a mandare in pensione la gente a delle età allucinanti come pretendete che i giovani vadano a lavorare in italia se non mandate via i vecchi come cazzo pretendete perché oggi in italia è chiaro che ci sono tutti questi ragazzi non gli permettete agli anziani ma perché maledetti che non siete altro non fate delle fasce di apertura cioè permettete alla gente di andare in pensione molto prima magari con uno stipendio di meno uno può anche dire io se vado in pensione a quegli anni lì mi aspetta mille due mille cinque non lo so se vado in pensione otto anni dieci anni prima magari mi danno 500 euro ma magari con la persona lì per una vita c'ha la casa di proprietà si è messo via i soldi e a lui può stare bene anche 5 6 700 euro perché non date quella possibilità in modo tale in modo tale perché i vecchi la gente la dovete mandare in pensione perché se noi giovani dove cazzo lavorano dove lavorano che io entro nell'officine entro nei posti di lavoro sono tutti vecchi non possono assumere niente perché questi qua non vanno via nell'officine negli studi tecnici come fai? come fate? è questo il dramma dell'Italia lasciate andare via i vecchi che magari i giovani lavorano ma il politico il politico il politico no il politico dice no va va e allora io ti dico abbiamo quasi il 40% di disoccupazione giovanile che poi non è reale perché non tiene conto di tutti quelli che stanno a casa e non cercano lavoro perché è molto più alta e allora questo giovane che io gli dico vattene via vai all'estero vai vai vattene in Germania Germania del sud lavoro c'è ancora disoccupazione è bassa almeno ti fai un futuro lì cosa dobbiamo fare? no cosa gli devo dire? no sta in Italia sta in Italia non fare un cazzo questo poveretto che magari va in giro a fare 20 domande non gli rispondono neanche gli devo dire no sta in Italia sta in Italia che è tutto bello perché devi fare il patriota no io gli dico caro mio ragazzino vai all'estero vai all'estero vai all'estero imparati una lingua che sei ancora giovane sei ancora sveglio e magari all'estero qualche soldo lo guadagni un futuro te lo fai cioè cosa gli devo dire? no stai qui stai qui stai qui a fare un cazzo la colpa è sempre loro è la colpa dei politici io vi ripeto bastardi voi cosa avete fatto per i giovani cosa state facendo? a parte mangiare soldi voi cosa avete fatto? un cazzo